ditemi voi qual è la differenza tra questi step on foot quindi pestoni scrivetemelo mi raccomando nei commenti allora benvenuti bentornati e ben arrivati nel mio canale in questo mio nuovo video dove con voi oggi non voglio parlare di lecce anzi il lecce ce lo metterò sempre in mezzo per forza però voglio parlare con voi di quest altro argomento allora gli arbitri gli arbitri allora ieri ne abbiamo visti di pestoni ne abbiamo visti altri ok però sono stati fischiati a volte altri no ma non solo ieri ce ne sono stati tantissimi altri da quel famoso lecce milan gol annullato piccoli allora gervasoni dice gervasoni rappresentante della can non è un ex arbitro in pensioni è un rappresentante della can dice in questo per questo fallo qua entrambi guardano in aria ed è uno scontro fortuito di gioco non vogliamo che micro tocchi o micro pestoni siano fischiati allora se tu dici una cosa del genere ok metti ancora più in difficoltà i tuoi colleghi quindi gli arbitri a capire cosa devono fischiare ok cosa fischiano devono guardare se stanno guardando in alto e se fortuito e se un micro pestone o se un tocchettino con la punta del del piede a una caviglia allora o dici che c'è il fallo quindi il pestone c'è e fallo ed è quello che dice anche rocchi il designatore che dice non occorre che ci sia volontarietà per fischiare un fallo e smentisce anche gervasoni dicendo che questi sono sempre calci di rigore allora io dico perché allora non avviene perché allora ci dobbiamo complicare la vita e non lo sanno neanche loro come devono applicare il regolamento allora c'è e sempre fallo ok c'è un pestone fischio rigore c'è un pestone fischio punizione c'è un pestone o annullo il gol come quello di piccoli però se noi tifosi vediamo che una volta viene fischiato una volta non viene fischiato e a quella squadra viene fischiata e a quell'altra squadra viene fischiata allora dov'è il problema dov'è il problema state facendo le cose più difficili di quelle che sembrano o applichiamo il regolamento del gioco del calcio come quello che c'è scritto sul regolamento ma non inventiamoci altro già è difficile di suo se poi dobbiamo andare a vedere altre piccole cose oppure cercare di difendere un arbitro che contro una squadra fa una cosa e contro un'altra squadra ne fa un'altra allora non andiamo da nessuna parte così non andiamo da nessuna parte mentre nelle altre nazioni secondo me vanno appena appena più avanti ok gli errori arbitrali si vedono sempre perché io l'ho sempre detto il miglior arbitro è quello che sbaglia meno non quello che non sbaglia mai però almeno su queste cose perché ad alcune squadre viene fischiato e ad altre no io adesso non voglio pensare non sto neanche pensando alla mala fede però se due componenti della canna che uno è il designatore e l'altro è un rappresentante già tra di loro dicono due cose diverse e uno smentisce l'altro è normale che poi tra tutti gli arbitri che girano tra la canna e la canna b tra cioè la serie a e la serie b è normale che vadano in difficoltà e che uno fischi una cosa e che l'altro non la fischia e al bar poi ci sono sempre questi signori sempre arbitri che anche loro ovviamente vanno in difficoltà quindi o mettiamo le cose chiare pestone fallo non non c'entra se uno sta guardando in alto se l'altro sta guardando il piede e se l'altro gli voleva pestare il piede se l'altro sta guardando la fidanzata in tribuna o se l'altro sta guardando l'amante nell'altra tribuna c'è il pestone fallo perché anche piccoli piccoli dove stava guardando non stava guardando l'avversario dietro dove poi gli ha pestato il piede ditemi voi ditemi la vostra mi raccomando nei commenti iscrivetevi al mio canale se ancora avete fatto e mi raccomando mettete mi piace e in questo video grazie a tutti e forza lecce sempre ogni partita è una sfida ogni pifo è un grido d'amore il giallo rosso del sangue scolle e gli uri non si ferma non molla mai